Ciao giovanissimi, bentornati sul canale di Enzovic Finalmente è tornato il nostro carissimo amico Easy Che non sentivamo da un po' di tempo Vero Easy? Che fine avevi fatto? Qualcuno sa darmi le sue notizie E mo' si ok, si è rifatto vivo con questa collaboration Ma... Chi lo sa? Chi lo sa questo Easy? Che fine ha fatto? Chi lo sa? Pezzo è prodotto da Shablo Pure lui, un nome che non sentivo da... Da decadi, da decadi A sto punto andiamoci a sentire subito Ci sta anche Joshua Vai ragazzi, partiamo subito, vai Partiamo subito Riproduci Hope Vai Bellissima voce Joshua Wow, che coro Bello Un bel misto tra Mahmood e... Non mi viene il nome di quell'altro Ma no... Come si chiama? Quel rapper riccio Ma non mi viene... La Young, La Young Non mi viene il nome di La Young Vai Easy Ragazzi, ascoltare Easy è sempre un'emozione comunque Incredibile Fantastico La combo è riuscitissima Ci stanno veramente benissimo La... La produzione di Shablo è... Minimal Però funziona Però minimal Molto minimal Bella Bella Bella, mi è piaciuta Molto semplice Sempliciotta Molto sempliciotta Carriata prepotentemente da Joshua Per quanto mi riguarda Ha fatto... Lavoro pazzesco Easy Easy e Easy Easy e Easy Comunque, sì Un... Un trio che funziona Mi è piaciuto E... Però ragazzi Ma parliamo di cose serie Ma Easy Quando torna con il disco C'è qualcuno di voi che sa qualcosa? Che sa qualcosa in più di me? Ragazzi, ma possibile? Quanti anni sono passati? Dall'ultimo disco? Quattro? Cinque? Quanti anni sono passati? Quattro anni sono passati Sì Almeno quattro anni Fammi vedere Quando è uscito? Vediamo Andiamo a controllare Quando è uscito Riot? 2020 Raga, ma tutto a posto Sono passati quattro anni Tra l'altro è uscito... Era uscito proprio a ottobre Mamma mia, ragazzi A me Easy manca È uno dei miei rapper preferiti Non vedo l'ora Torni con un disco Ragazzi, se voi sapete qualcosa Scrivetemelo nei commenti Perché, guarda Io sinceramente non sono un grandissimo gossiparo Quindi non so Non so tutte le... Tutte le vicissitudini Tutti... Quindi magari fatemi sapere nei commenti Quando tornerà Easy Se si sa Se si sa qualcosa Va bene Ci vediamo alla prossima reaction Ciao ragazzi Ciao 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 Ciao